Dos Santos, uno degli ultimi rinforzi in Casa Biancorossa, come mai hai scelto la Vastese? Ho scelto per il progetto, il mister mi ha voluto fortemente, quindi sono qui a disposizione per lavorare. Hai un legame importante con l'Abruzzo, ricordiamo le tue ex squadre, come Francavilla, Avezzano e Chieti. Sì, 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 ho un legame, mio figlio è nato in Abruzzo, quindi sono molto legato. A te il peso di reggere l'attacco della Vastese l'anno prossimo, quali sono le sensazioni per questa nuova avventura che parte oggi? No, le sensazioni sono buone, non è un peso, è un onore, quindi qui aiuta i miei compagni, andiamo avanti. L'obiettivo è andare in doppia cifra quest'anno? È di fare il primo gol e poi arriverà pure il secondo, e così andiamo avanti.